Per 13 milioni di pensionati e circa 800.000 nuclei per settori di reddito di cittadinanza si è trattato di una piccola ma importante boccata d'ossigeno. Queste categorie a luglio hanno ricevuto infatti il bonus da 200 euro, l'unatantum introdotto dal governo per supportare il potere d'acquisto delle famiglie indebolito dal caro prezzi. La misura che ai lavoratori dipendenti è stata corrisposta dai datori di lavoro alle due categorie è stata accreditata dall'Inps. L'Istituto di Previdenza ha iniziato anche i primi pagamenti per colfe e badanti che comunque hanno tempo ancora per un altro mese e mezzo per presentare la domanda. Nello specifico al primo luglio scorso hanno ricevuto l'accredito 13 milioni e 137 mila pensionati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza il bonus è stato pagato a circa 800.000 nuclei, un processo che è stato totalmente automatizzato, consentendo così una riduzione al massimo dei tempi per la liquidazione. Nello stesso mese l'Inps ha provveduto anche a disporre i pagamenti per oltre 427.000 lavoratori domestici sulla base delle domande pervenute. Per i lavoratori domestici c'è ancora tempo fino al 30 settembre per presentare le domande. A ottobre l'Inps erogherà il bonus in modo automatico ai titolari di Naspi e Discall, purché in disoccupazione a giugno, alla pletà di beneficiari della disoccupazione agricola 2021 e ai titolari delle ex indennità Covid. Le altre categorie chiamate a presentare domanda hanno tempo, fino al 31 di ottobre. Il decreto aiuti bis ha previsto inoltre l'estensione del bonus anche a lavoratori non coperti dal precedente decreto come cassi integrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, sportivi, dottorandi, assegnisti di ricerca e pensionati dal 1 luglio 2022, oltre al finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per l'erogazione del bonus da 200 euro ai professionisti. In particolare, per autonomi e professionisti, una platea stimata in 3 milioni di persone, sarà necessario presentare domanda al proprio ente di previdenza.